Realizziamo un centro per la cura di malattie neuromuscolari, SLA, Sclerosi Multipla, sono 23 posti letto, 6 dedicati ai bambini, in collaborazione ovviamente con l'associazione NEMO, con l'associazione Teleton, veramente una splendida realizzazione che abbiamo concluso in 9 mesi, nonostante il Covid e l'epidemia. Noi ovviamente finanziamo anche la ricerca scientifica sulle malattie rare e sul cancro, sapete che investiamo come regione 160 milioni di euro, uno sforzo enorme. Sono convinto che è questione di tempo, ma prima o poi arriveremo alla soluzione dei problemi del cancro e delle malattie rare.